Ma possiamo fare i tre difensori più forti del mondo oggi, secondo te? E da lì partiamo con il ragionamento. Perché lo diciamo sempre, poi devi anche giustificarli, no? Quelli che ti vengono in mente, il perché, guardando chi sei te, come potevi essere contro di loro, guardando il calcio attuale, le caratteristiche. Allora, io dico, metto Chiellini, Ramos. Parliamo adesso dei tre, giusti? Tu scegli i primi tre. Chiellini, Ramos. Ok. Potresti mettere Van Dijk del Liverpool. E mezzo tre, fammi scegliere. Van Dijk sì, scelgo quattro, scelgo Koulibaly e Van Dijk. Però mi piace più Koulibaly che Van Dijk, a me. Ok. Grazie. Grazie.